E' arrivato il pareggio dello sgarbo e del sorpasso subito. La Pianese vince a Città di Castello e grazie al risultato dell'Arezzo conquista la vetta del girone. Indiani lo apprende nel dopopartita e mostra ai nostri microfoni fair play di maniera facendo i complimenti alla squadra avversaria. Non lo sapevo nemmeno, evidentemente ha vinto la Pianese. Brava Pianese, siamo all'undicesima giornata. Vediamo, dissi ieri in conferenza stampa che le dieci squadre avevano incontrato, mi sarei stupito fosse arrivata davanti a noi. Oggi c'è l'undicesima che sicuramente non arriverà davanti a noi. Vediamo ora, quando incontreremo anche questa Pianese, vediamo le altre squadre. Io credo che fino a ora le undici squadre che ho visto non arrivano davanti a noi alla fine di campionato. Il ritornello diventa una costante e l'Arezzo soffre negli ultimi 25 metri e le conseguenze sono anche queste. Gli Amaranto producono dall'inizio della stagione un buon calcio, ma non lo mettono a frutto proprio perché non riescono a capitalizzare quello che hanno costruito. È vero che la partita di Montespaccato va analizzata senza dimenticare il fattore ambientale. Non è facile giocare su quel terreno di gioco che è una vera trappola per tutte le squadre avversarie. La palla ha uno strano rimbalzo, il controllo è sempre difficoltoso e le stesse dimensioni del campo non permettono tanti svolazzi. Ti devi adattare e se non capisci come giocare sono dolori. In quella struttura è pericoloso un fallo laterale alla pari di un calcionangolo. L'Arezzo ha avuto le sue occasioni, anche sporche, ma non è riuscito a pulirle nella maniera dovuta. Poi capita che il portiere avversario si inventi sempre la parata della domenica come sulla fiammata di Gaddini nella ripresa e il gioco è fatto. Il parigio di Castiglia in overtime ha premiato il carattere di una squadra che ha avuto una grande reazione dopo la rete subita da Attili. Ma non basta solo quella. Giovannini e Indiani lo sanno bene ed è opportuno che tengono alta sempre l'attenzione. La pianese non scherza, il Poggi Bonzi è in rimonta per non parlare del Livorno che ha ripreso fiato. Indiani ha detto che serve tornare a vincere. Iniziamo già dalla partita con il Grosseto.